Amedeo Valentini, il 6 Ibis De Fe, Raffaele Palomba per Roberto Faticoni, il 7 Claudio Tor, Warner Martellini, restano soltanto in 4 in seconda fila con l'8 Calcante GPD, Gianpaolo Minucci per Gabriele Quarneti, Cosmico Polare, Giusy Savarese per Giuseppe Faruolo, Cronoscaffo Enrico Bellei, Charlie SM, Alessandro Rezzo per Warner Martellini. Si avvia con circospezione alla corda Casteggio e di galoppo Chanel, dall'esterno parte forte Claudio Tor insieme a Clio del Circeo, Ed è Claudio Tor che va facilmente a condurre nei confronti proprio di Clio del Circeo, poi la terza posizione è per Califo Gal davanti a Casteggio che precede Calcante GPD, Poi ancora Cronoscaffo, Claudio Tor ha acquisito un netto vantaggio dopo 400 metri veloci in 29.7, precede di 6-7 lunghezze Clio del Circeo che è seguita a sua volta un paio da Califo Gal, quindi Casteggio, Calcante GPD, all'esterno Claire Di Iesi, cerca di migliorare in terza ruota Ibis De Fe, sempre in vantaggio anche se di minore entità Claudio Tor, mezzo miglio in chiaro rallentamento, muove Califo Gal dalla terza posizione in anticipo su Casteggio e cerca di scavalcare Clio del Circeo, Claudio Tor dopo mezzo miglio in 1-2-7 viene avvicinato da Califo Gal che tende a passare esattamente a metà gara, Califo Gal è il nuovo leader nel frattempo 18-7 per il primo giro con Califo Gal che ha scavalcato Claudio Tor, Casteggio che va al suo inseguimento, poi Clio del Circeo, Calcante GPD, ancora Cronoscaffo e tutti gli altri. Con Casteggio che ora va ad incalzare Califo Gal quando mancano 650 metri all'arrivo, Califo Gal e Casteggio alle prese davanti a Claudio Tor. Insiste Casteggio, replica Califo Gal, Claudio Tor che dopo essere stato scavalcato però tiene bene il contatto con gli altri due. A precedere Clio del Circeo, Calcante GPD, Cronoscaffo e ancora Charlie SM. Frazione ora in 14-3 con Casteggio che intensifica la pressione su Califo Gal che replica Claudio Tor che è vitale nella loro scia e accenna anche a spostare dalla corda nella scia di Casteggio. Casteggio che insiste ancora e passa su Califo Gal, si ripropone Claudio Tor, più indietro migliora Cronoscaffo. E' passato chiaramente Casteggio mentre Claudio Tor prova ad attaccare Califo Gal, si avvicina a Cronoscaffo. Casteggio che allunga e prende vantaggio da Califo Gal, Claudio Tor e Cronoscaffo che finisce forte nel finale. Netto Casteggio davanti a Califo Gal e Cronoscaffo che batte Claudio Tor per il terzo posto. 1-3-10 l'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle. 2-34 secco sul mio cronometro per gli ultimi 2000 metri e quindi media intorno all'1.17 forse anche qualcosa meno considerando i primi 100 metri veloci ma soprattutto un secondo chilometro nell'ordine dell'1.15 appena abbondante preso sulla testa e quindi che vale quella misura. per il debutto vittorioso del qualitativo Casteggio, Varen e Love on the Rocks, Gennaro Casillo al training, Antonio Di Nardo alla guida, la scuderia Acquario ai colori. Buon secondo Califo Gal davanti a Cronoscaffo. 1-3-10 è tutto la linea che può tornare allo studio. Grazie. Grazie.